Larry Pink, che è il numero uno di BlackRock, avverte sul pericolo effetto palla di neve per quanto riguarda il debito pubblico americano. Sì, perché il debito pubblico americano cresce di mille miliardi di dollari ogni cento giorni. Il governo statunitense è in costante deficit, vuol dire che le uscite sono di gran lunga superiori alle entrate che lo Stato incassa con le tasse. Questo debito mostruoso ha fatto sì che negli ultimi tre anni gli interessi che vengono pagati sul debito ammontano a mille miliardi di dollari all'anno e sono cresciuti di quasi il 100% negli ultimi tre anni. Approfondiamo questo tema in questo video che ci avete richiesto in tanti, che ha l'obiettivo di chiarire qual è lo stato di salute del debito pubblico americano. Perché pare proprio che agli Stati Uniti sia scappata la mano quando si parla di deficit delle finanze pubbliche. E lo approfondiremo in questo video. Consapevoli che sì, io sono un servo dei rettiliani, sono un venduto ai fascisti russi, che questo video sarà stracolmo di dati farlocchi, che cercheremo di farti credere che gli asini volano e che, se proprio vogliamo essere precisi, i veri americani sono i nativi, quindi gli indiani, non gli invasori europei. È interessante notare come ci sia oggettivamente un odio molto spinto nei confronti degli Stati Uniti. Molte persone prendono le distanze, mai avuto niente a che fare con il Made in USA e infatti viene giustamente fatto commentare che lo stai scrivendo su YouTube, che chissà dove è fatto YouTube. Questo video, al di là dell'ironia sul fatto che c'è chi sostiene e che condividiamo dati farlocchi, ha l'obiettivo di analizzare l'economia americana e il debito pubblico americano senza preconcetti, consapevoli che sono la prima economia economica al mondo, la prima potenza militare e che, volendo o no, la nostra economia dipende in forte misura dall'economia americana, un po' per i servizi, un po' per i prodotti e, di conseguenza, se vuoi avere una visione completa a livello macroeconomico del mondo, non puoi non analizzare l'economia americana. La seconda cosa che non puoi non fare è iscriverti al canale perché, appunto, notiamo che troppe persone seguono questi contenuti ma non si iscrivono e invece vedrai che questo contenuto, a partire da questa slide e le prossime 30, sarà straricco di valore che, come al solito, sarà racchiuso in una bellissima slide che potrai scaricare gratuitamente alla fine del video. E visto che ci stiamo avvicinando alle lezioni americane e so che le vuoi seguire con estrema attenzione, ti chiederai ma come faccio a seguire le lezioni se non so l'inglese? Ed è per questo che sono felice di condividere lo sponsor di questo video, che è l'applicazione Elsa Speak, un'app che ti aiuta a migliorare il tuo inglese, così da poter seguire ogni minuto delle imminenti elezioni americane. Elsa Speak è un'app che ti aiuta ad individuare i tuoi errori di pronuncia e lo fa utilizzando un'intelligenza artificiale all'avanguardia. Quindi basta dire I am Italian e parlare come Mario Bros perché grazie a quest'app ti verrà assegnato un punteggio in base alla tua pronuncia, alla tua fluidità e alla tua intonazione. E interagendo con l'app riceverai un riscontro immediato su come migliorare la tua pronuncia. Grazie ad Elsa aumenterai anche il tuo vocabolario imparando frasi per la comunicazione quotidiana o per la comunicazione in particolari contesti. Infatti ci sono oltre 1600 lezioni che spaziano su 40 argomenti differenti. Uno degli aspetti più interessanti di Elsa è proprio un chatbot, quindi immagina un robottino online spinto dall'intelligenza artificiale che puoi utilizzare per fare pratica in conversazioni reali e su qualunque situazione decidi di migliorare il tuo inglese. Quest'app è fantastica per avere un riscontro dettagliato su come ti sei comportato durante la conversazione e su cosa poter migliorare. Con l'abbonamento premium hai anche la possibilità di accedere a corsi di Oxford, a libri per poter migliorare ulteriormente il tuo inglese. Se ti interessa provare questa applicazione puoi cliccare il link che trovi in descrizione di questo video per scaricare gratuitamente Elsa e provare l'abbonamento premium gratis per 7 giorni. Se invece conosci già l'app e sei già cliente puoi accedere a degli sconti che mi hanno reso disponibili solo per chi segue questo canale cliccando sempre il link che trovi in descrizione di questo video. E finalmente potrai smetterla di parlare come Mario Bros. Ahia è Mario! Ti ricordi cos'è successo a giugno dell'anno scorso? Bene, ci sono state settimane di panico perché doveva essere approvato il famoso debt ceiling, quindi l'innanzamento al tetto del debito. In altre parole, negli Stati Uniti non si può superare un certo livello di indebitamento, quindi di debito pubblico che viene fatto dalla tesoreria del governo, se non c'è un'approvazione nel Parlamento americano. E ovviamente sto ipersemplificando questo meccanismo. Ma per farti capire che questo è un vincolo per legge all'indebitamento che c'è negli Stati Uniti. Noi non ce l'abbiamo in Italia, quindi noi possiamo sforare senza grossi problemi. Gli unici che ci vengono a fare i conti in tasca sono l'Europa. E vedremo che, a mio parere, un tetto al deficit, ce ne accorgeremo guardando questi dati e condividendo o meno le riflessioni di questo video, ha assolutamente senso. Perché da quando non c'è più il tetto al debito, gli Stati Uniti hanno continuato a giocare dei begli assi per quanto riguarda l'indebitamento pubblico. E sono passati da 31 trilioni di dollari, quindi 31 mila miliardi di dollari di debito pubblico, a 34 mila miliardi in meno di un anno, la crescita di 3 mila miliardi in 6-7 mesi. Incredibile! Soprattutto è incredibile pensare che questo possa continuare nel lungo periodo, perché se l'indebitamento continuasse a questo tasso, si arriverebbe ad un 166% di rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel 2054. Adesso gli Stati Uniti sono già a circa il 120%, lo vedremo tra poco. Ma quello che preoccupa Larry Fink, ma anche molti altri investitori, e soprattutto siamo vicini alle elezioni americane, quindi vedremo che impatto avrà anche questo sulle elezioni americane, è la traiettoria di crescita. Perché si accumula tutto questo debito pubblico? Beh, la matematica è abbastanza semplice, perché c'è deficit. Un deficit molto spinto, in altre parole, si spende di più di quanto si incassa in tasse. E lo vediamo da questa traiettoria. Il deficit è stato ovviamente molto alto nel 2020 per stimolare l'economia dopo lo shock che c'è stato a causa lockdown, a causa pandemia da Covid. Ma adesso quello che emerge è che questa traiettoria di spesa esageratamente superiore agli introiti da tasse non accenna a tornare ad una normalità. E se prendiamo appunto i grafici della Peter Peterson Foundation, questa traiettoria, che si basa ovviamente su dati dichiarati dalla tesoreria americana, è piuttosto preoccupante. porterà a questo indebitamento monster, ok, mostruoso, qualora non venissero apportate delle correzioni. Ma stiamo commentando una traiettoria che si basa su ciò che è stato fatto negli ultimi due, tre, quattro anni di gestione delle finanze pubbliche. Quello che emerge è che, ok, nel 2020-2021, tutti i governi dei paesi sviluppati hanno sostenuto l'economia con un deficit molto importante. l'abbiamo fatto noi, i tedeschi, a livello di Europa, tutti, ed è stato assolutamente giustificato. Tra l'altro, se ti interessa faccelo sapere, potremo fare un approfondimento su questo video. L'Italia ha fatto molto deficit, è arrivata fino al 155% di debito pubblico, ma dato di qualche settimana fa siamo tornati sotto al 140. Quindi il deficit è stato fatto, però c'è stata crescita economica, controllo delle spese nel 2023-24 e adesso l'indebitamento non è più preoccupante come lo era due anni fa. Possiamo dire lo stesso degli Stati Uniti? No, il problema è che il deficit continua ad essere molto spinto, continua a spendere molto di più di quanto non incassino dalle tasse. Quanto di più? Dal 2020 ad oggi quanto hanno speso gli Stati Uniti aggiustato per l'inflazione è superiore a quanto hanno speso gli Stati Uniti nella prima guerra mondiale, nella seconda e dal 1970 al 1990. È un deficit mostruoso e lo ripeto, sono dati aggiustati per l'inflazione. Quindi un euro di oggi è l'equivalente di un euro del 1920 in questo grafico. Tutto ciò fa sì che se aumenta il debito e aumenta il deficit, aumenta il costo per sostenere questo debito, perché ci sono due fenomeni. Da un lato abbiamo un debito che continua ad aumentare perché c'è deficit, dall'altro abbiamo tassi di interesse che sono alti, che rimangono alti per contenere l'inflazione, e l'abbiamo commentato nell'ultimo video, se te lo sei perso, link in descrizione, e di conseguenza il costo per sostenere questo debito continua ad aumentare, perché sta aumentando sia il valore del debito, l'ammontare del debito, sia il suo tasso di interesse, perché periodicamente vanno in scadenza titoli di Stato con magari dei tassi di interesse vecchi, era quantitative easing, quando magari erano allo 0,5, 1%, e adesso vengono rifinanziati a tassi di interesse più alti, quelli attuali, e magari siamo al 2-3%. Questo fa sì che il costo per sostenere gli interessi di un debito pubblico in costante aumento sia a sua volta in aumento. Infatti vediamo che il tasso di interesse medio sul debito pubblico è progressivamente aumentato, e il costo per sostenere il finanziamento è aumentato, cioè ha un peso sempre più rilevante nel bilancio dello Stato. E questo tema sta diventando veramente fonte di preoccupazioni. Ecco un grafico che non mi fa dormire la notte. Gli interessi sul debito pubblico americano creano grande preoccupazione relativamente proprio al fatto che il debito pubblico è su una traiettoria di insostenibilità. Però loro sono padroni della loro moneta, quindi il problema del debito pubblico non sussiste, vero? Parliamone. Innanzitutto dobbiamo capire come viene utilizzato questo debito pubblico. E penso sia interessante approfondire se questa spesa pubblica ha poi generato un aumento di prodotto interno lordo. Perché dovremmo capire se stiamo parlando di una spesa pubblica o un vero e proprio investimento, no? Perché se si tratta di investimento pubblico, cioè se c'è un moltiplicatore della spesa pubblica, allora dov'è il problema, no? Se io spendo uno di incentivo fiscale, ma ottengo un aumento del prodotto interno lordo di tre, faccio un esempio, allora è un investimento che può valere la pena. Quello che emerge è che questa spesa pubblica non ha portato grandi aumenti di prodotto interno lordo. E ovviamente ti porto dei dati fallati, perché su questo canale solo dati fallati. Questi sono presi da Bloomberg, io non so, è il fornitore numero uno di dati al mondo, se iniziamo a mettere in discussione Bloomberg. Ti invito a lasciare qui questo video e passare ad un video sui gattini, magari più interessante. Quello che è interessante notare è come ovviamente c'è stata una grande crescita dell'economia americana. L'abbiamo commentato qualche video fa, l'ultimo trimestre del 2023 è stato di grande crescita attorno al 3%, vado a memoria, per l'economia americana. Vedremo tra pochi dati del primo trimestre del 2024. Ma quello che è interessante notare è che la traiettoria di crescita dell'economia americana non è bellissima se confrontata alla traiettoria di crescita del debito pubblico americano. E anche a livello grafico, senza essere degli analisti finanziari o degli esperti di questi numeri, vediamo come finché il debito pubblico cresce come l'economia americana, potremmo dire che il rapporto debito pubblico-PIL più o meno si mantiene costante. Ed è quello che è successo praticamente fino al 2018-19, più o meno sì. Gli Stati Uniti si muovevano tra l'80, 90, 100% di debito pubblico se rapportato al PIL. In realtà già da qualche anno prima, dal 2014 in poi, è che l'economia americana è stata sostenuta da un debito pubblico molto spinto. Cosa vuol dire che è stata sostenuta da un debito pubblico molto spinto? Vuol dire che, magari, per tenere basse le tasse su persone o imprese, quindi stimolare l'economia, hanno incassato meno tasse dai cittadini, dalle aziende, ma la spesa è rimasta uguale e quindi si è creato un deficit, e quindi si è creato debito pubblico. Questo fenomeno è iniziato più o meno a partire dalla fine della crisi precedente, e quello che notiamo è questo. Soprattutto nell'ultimo trimestre dell'anno, per ogni 2.5 dollari di debito pubblico, è stato generato un dollaro di prodotto interno lordo. Questo è quello che è sconvolgente. Ed è proprio quello che si vede anche graficamente qui. Il debito pubblico cresce molto di più di quanto non cresce l'economia americana. E sull'ultimo trimestre dell'anno, il dato è oggettivamente preoccupante. Perché? Perché il governo ottiene meno risultati in termini di crescita economica di quanto spenda a sostenere l'economia tramite una defiscalizzazione, cioè tramite poche imposte che gravano su aziende e cittadini. Questo fa sì che gli Stati Uniti siano in questo momento in una spirale preoccupante di crescita del debito pubblico, di economia che si cresce, ma non ha i tassi che ci si aspetterebbe per una dose di stimoli così ingente, e anche in una condizione in cui all'aumentare dei tassi di interesse sta aumentando il peso del service in debt, cioè di quante risorse del budget vanno a pagare gli interessi e vediamo come praticamente siano quasi aumentati del 50%. Pagare gli interessi sul debito costava circa il 2.5 punti percentuali del PIL, adesso ne costa 3.7 ed è il valore più alto del 1999. E se mettiamo tutto questo insieme, emerge che più o meno gli Stati Uniti spendono mille miliardi di dollari per pagare gli interessi sul loro debito che più o meno sono quelli che raccolgono ogni 100 giorni il nuovo debito. Cioè gli Stati Uniti fanno prestito per pagare gli interessi. Capisci perché c'è da non dormirci la notte? Cioè, quantomeno se tu sei un americano? Questo è l'effetto di avere il debito pubblico su una traiettoria fiscale insostenibile. Ma il debito pubblico, che è una mera invenzione economica, una truffa ai danni delle popolazioni, cioè se si crea pagando meno tasse di quelle che uno Stato dovrebbe far pagare per lasciare più soldi in tasca alle famiglie, alle aziende, come fa a essere una truffa ai danni della popolazione? Non lo so. Quando si parla di debito pubblico c'è sempre poca chiarezza. Ma gli interessi a chi vengono pagati? Se se li stampano loro i soldi? Pagano gli interessi a loro stessi? Su questo ci arriviamo tra poco. Prima però dobbiamo approfondire il tema della demografia degli americani. Perché questo è un altro tema molto preoccupante, che tra l'altro, se possiamo dire malcomune e mezzo gaudio, no, è un problema che abbiamo anche noi qui. In realtà la demografia degli americani, della popolazione in età lavorativa negli Stati Uniti è molto migliore della situazione che abbiamo quantomeno in Italia, però sicuramente ha comunque un impatto sulla solidità delle loro finanze, perché è vero che non c'è l'Inps, è vero che la previdenza è molto più privatizzata, è molto più individuale di quanto non sia statale, però la demografia porta ad un impatto molto importante su quella che si chiama Social Security e Medicare. Quindi l'assistenza di base pensionistica e sanitaria, che è base, 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 base. Però comunque qualcosa c'è. E la demografia fa sì che la spesa in termini di percentuale del prodotto interno lordo stia crescendo in modo importante. Giusto per contestualizzare, in Italia la spesa per le pensioni incide per circa il 18% della spesa pubblica italiana, ok? Ed è seconda solo alla spesa che hanno in Grecia. Va da memoria, ma non mi dovrei sbagliare di molto. Quindi la demografia gioca un ruolo importante perché in una nazione in cui gli oneri per lo Stato, che sono le pensioni, sono sotto controllo perché magari c'è forte natalità, molte persone entrano nel mondo del lavoro, lavorano, pagano i contributi, pagano tasse sul reddito, è più facile sostenere le spese per chi invece magari sta uscendo dal mondo del lavoro, per chi invece inizia a usufruire di questi servizi. Quindi la natalità e la demografia giocano un ruolo importante. Gli Stati Uniti hanno una demografia espressa in termini di persone in età lavorativa molto migliore di quanto non abbiano ad esempio in Cina o abbiamo noi in Europa, perché comunque hanno un'immigrazione controllata, una natalità leggermente migliore della nostra. Insomma, se si guarda l'andamento della popolazione in età lavorativa, che quindi paga le tasse, è sicuramente migliore della nostra, ma comunque, per le ragioni che abbiamo visto di invecchiamento della popolazione, i baby boomers ci sono anche negli Stati Uniti, sempre il nostro amico Larry Fink di BlackRock avverte che c'è una retirement crisis, quindi una crisi del pensionamento, quindi andranno a fare quota 100 anche negli Stati Uniti, te lo anticipo. E non c'è da meravigliarsi se le giovani generazioni o i millennials, come il sottoscritto, o la generazione Z, sono in uno stato di ansia economica, proprio per queste ragioni demografiche. A tal punto che si inizia a parlare, siamo in periodo di elezioni per gli Stati Uniti, di aumentare l'età del pensionamento. Questi sono i repubblicani che stanno iniziando a proporre soluzioni per mettere una pezza al debito pubblico americano, perché ne parliamo di qua dall'oceano, ma il problema ovviamente è molto caldo anche dove c'è il debito, cioè negli Stati Uniti. Ma dobbiamo parlare di un tema molto importante, perché su questo tema, a mio parere, c'è molta disinformazione. Dobbiamo rispondere alla domanda chi possiede il debito pubblico USA. Sì, perché si legge di tutto online. Avete rotto con questa propaganda del debito. Uno stato sovrano verso chi ha debito? Verso Dio? Verso gli alieni? Non esiste il debito pubblico. Sono favole che ti hanno insegnato. Dopotutto stampano monete quando vogliono, perché hanno la Federal Reserve. Non basterebbe creare denaro non a debito? No, non ce lo lasciano fare. E noi non lo diciamo perché abbiamo ripercussioni sul canale. Non solo sponsorizzano il canale, ma non possiamo dirvi la verità, ve lo dico. Non possiamo dirvi la verità perché se lo dicessimo il nostro canale subirebbe gravi ripercussioni. Pazienza. A mio avviso molti ragionamenti fatti sono noti e corretti, ma dovremmo specificare a chi vanno gli interessi del debito pubblico. Ottimo commento perché esistono investitori interni e investitori esterni. È per questo che dobbiamo porci la domanda ma chi possiede il debito USA? Ed ecco la risposta che tra l'altro abbiamo già condiviso nello stesso video in cui c'erano quei commenti. Quindi purtroppo la ripetizione è la madre di tutelabilità. Due terzi del debito pubblico americano è posseduto da investitori domestici, quindi da americani o da istituzioni americane. Circa 6 mila miliardi di dollari sono in pancia alla Federal Reserve, poi in pancia 2.600 miliardi a fondi comuni di investimento, governi federali, altre istituzioni, fondi pensione, eccetera. E poi, oltre agli investitori domestici, ci sono foreign holders, quindi altri investitori esteri. Il Giappone per 1.000 miliardi di dollari, la Cina per circa anche lei 1.000 miliardi di dollari, il Regno Unito, il Belgio e così via. Quindi innanzitutto dobbiamo renderci conto che il debito pubblico viene emesso da un governo, in parte può essere comprato dalla banca centrale della nazione del governo, oppure il debito pubblico può essere venduto a investitori che vogliono investire e vogliono avere un rendimento dal proprio investimento. Quindi innanzitutto dobbiamo capire che il debito pubblico per alcuni è un debito, per altri è un attivo. Cioè i cinesi e i giapponesi che ne hanno per 1.000 miliardi di dollari di questo debito pubblico, vedremo poi l'evoluzione della Cina che comunque è preoccupante quando si parla di detentori di debito pubblico americano, bene, per loro è patrimonio, per gli Stati Uniti è debito, per loro è patrimonio. Quindi a chi pagano gli interessi gli Stati Uniti se si stampano loro il denaro pagano gli interessi a loro stessi? No, pagano gli interessi ai possessori del debito pubblico, in parte e anche la Federal Reserve, ma la Federal Reserve ne possiede per 6.000 miliardi su circa 34.000 miliardi, quindi fai tu le proporzioni. Tutto il resto sono investitori privati, investitori pubblici, governi, magari anche aziende che hanno investito in titoli di Stato. Quindi il debito pubblico non è una bagianata, è debito per uno Stato e patrimonio per chi decide di finanziare quello Stato comprando i titoli di Stato e per lui diventa patrimonio. Ah, ma non si potrebbe andare in default sul debito? Eh sì, basta convincere i 2.600 miliardi di proprietà di fondi comuni di investimento o dei 1.000 miliardi di proprietà dei fondi pensione che tu Stato puoi andare in default. Se hai un debito hai comunque un vincolo, cioè dovresti ridare i soldi indietro a chi te li ha prestati, no? E se questo è patrimonio, io non so quanto i cinesi, giapponesi o gli investitori in fondi comuni di investimento americani siano felici di vedere il loro investimento in titoli di Stato americani andare a zero. Quindi è vero che buona parte di questo patrimonio è in mano alla Federal Reserve che stampa denaro e adesso vediamo quanto e vedremo numeri alla mano ovviamente tutti falsi e non verificati, però ci sono anche molti altri investitori. Bene, quello che fa capire che comunque questo meccanismo è già borderline, ha già dei rischi associati è che dal 2019 in poi la presenza della Federal Reserve tra i proprietari di debito pubblico americano è aumentata in modo esponenziale, cioè la Federal Reserve ne ha stampati tanti di soldi, in parte li ha immessi sul mercato andando a comprare titoli di Stato americani e quindi ha aumentato il suo bilancio, l'abbiamo visto in altri video, dall'altra parte il governo americano ha emesso talmente tanto debito che la banca centrale americana non è che aveva abbastanza soldi per comprarli tutti, ne ha già comprati tanto da raddoppiare praticamente il suo peso tra i proprietari di debito pubblico americano. Quello che adesso vediamo essere 6 mila miliardi di dollari di partecipazione da parte della Fed al debito pubblico americano nel 2019 era meno di 2 mila miliardi, quindi hanno triplicato la presenza di debito pubblico americano nel loro bilancio, ma dal 2020 ad oggi il debito pubblico americano è aumentato più di 10 mila miliardi di dollari, quindi a spanne 4 o 5 se li ha presi in pancia la Fed, gli altri sono stati immessi sul mercato e chi li ha comprati? I detentori di debito pubblico, un mix di queste istituzioni o di questi investitori. Più chiaro di così non so come spiegarlo, quindi il debito pubblico è un problema anche per nazioni che battono moneta. Perché ti chiederai? Perché il peso degli investitori esteri sta aumentando in modo esponenziale. Perché? Perché la Fed non ne può comprare tanto quanto ne mette il governo pubblico americano di debito pubblico. Infatti nel 1970 gli investitori esteri detentori di debito pubblico americano erano circa il 5%, nel 1995 sono saliti al 23%. Adesso, visto che il governo americano continua a spendere e espandere come non ci fosse un domani, la Fed non può stampare denaro, è in una fase in cui dovrebbe ridurre la massa monetaria per contenere l'inflazione, quindi lei deve ridurre la massa monetaria, quindi non può stampare per andare a comprare titoli di Stato. E allora il governo li deve vendere ad investitori esteri e questo è quello che è preoccupante perché gli Stati Uniti stanno diventando sempre di più dipendenti da investitori esteri. Infatti la presenza di investitori esteri nella ripartizione del debito pubblico americano a dicembre ha toccato il nuovo massimo. Perché questo è un problema? Perché gli investitori esteri sono più attenti, cioè non è che sono americani e comprano debito pubblico americano per spirito patriotico, sono molto più attenti alle finanze pubbliche e alla sostenibilità del debito pubblico e potrebbero in un attimo trasformarsi in bond vigilante. Chi sono i bond vigilante? Sono quegli investitori o speculatori che nel 2011 hanno ad esempio scommesso contro l'Italia il debito pubblico sovrano non solo dell'Italia ma tutti i paesi che sono usciti con forte difficoltà dalla crisi del 2009 e hanno visto esplodere il loro debito pubblico quindi Irlanda, Grecia, Spagna, Portogallo e Italia quali hanno un debito pubblico così alto oggi e una crescita economica così asfittica? È solo l'Italia. I bond vigilante quindi sono investitori o trader che vanno a vendere grandi ammontari di titoli di Stato o obbligazioni come protesta o segnale di disapprovazione delle politiche dell'issure cioè di colui che emette il debito ok? In questo caso il governo americano il debito pubblico per uno Stato sovrano non è un problema è un dato statistico è cancellabile con un tratto di penna non so se saranno d'accordo il crescente 30% di investitori esteri in debito pubblico americano di veder cancellato il loro investimento in debito pubblico con un tratto di penna più uno Stato si espone a investitori esteri meno può fare giochetti di questo tipo no? Ai miei cittadini cancello un po' del loro patrimonio che di fatto è un effetto simile alla patrimoniale che lo puoi fare con i tuoi cittadini valla a fare con investitori esteri ed è un po' un problema appena si inizia a percepire questo rischio arrivano i bond vigilante cioè gente che inizia a speculare contro il debito pubblico inizia a dire questo debito pubblico non è più sostenibile lo spread sale perdi la AAA che hanno già perso per direi Moody's o Fitch non mi ricordo quale agenzia di rating e il tuo debito pubblico diventa molto più costoso da finanziare questa è la spirale distruttiva a cui stanno andando incontro gli Stati Uniti se non metteranno un freno al loro deficit perché ad oggi i compratori di debito pubblico americano ce n'è sempre perché sono la prima economia del mondo perché è il mercato più grande del mondo perché il dollaro rimane ancora oggi la valuta di riferimento e quindi le transazioni che vengono fatte in dollari magari vengono poi reinvestite in titoli di Stato americani ma notiamo come la Cina è già da un po' che sta riducendo la sua posizione in titoli di Stato americani ed è la più bassa da 14 anni e quella di agosto 2023 è la posizione più bassa più piccola degli ultimi 14 anni come si legge sul Financial Times i bond vigilantes in questo momento stanno dormendo sui treasury americani non stanno apprezzando correttamente il rischio e le ragioni sono quelle che abbiamo visto però la vera domanda è per quanto continueranno a non vedere il problema mettere la testa sotto la sabbia Ken Griffin gestore di un famoso hedge fund dice la spesa americana è fuori controllo e sfortunatamente quando il mercato dei titoli di Stato bond vigilantes quindi chi inizia a guardare la sostenibilità del debito pubblico inizierà a porsi delle domande sulla sostenibilità americana e dovrà arrivare alla disciplina fiscale beh questa sarà brutale oggi non ci sono problemi per i titoli di Stato americani perché la percezione del rischio è ancora contenuta e il governo non ha problemi a finanziarsi questa è la raccolta in trilioni di dollari di debito pubblico americano negli ultimi anni non ci sono problemi lo spread è contenuto e anche i tassi di interesse sono contenuti perché ci sono sempre compratori ma la vera domanda è quanto durerà se non cambiano le premesse che abbiamo visto in questo video se non cambia il deficit e se non cambia questa traiettoria di crescita costante dell'indebitamento e del costo del suo finanziamento ok a questo punto viene da dire bene abbiamo parlato di debito pubblico che viene generato da un deficit che è fondamentalmente spendere di più di quanto incassi con le tasse ma non potrebbero semplicemente aumentare le tasse negli Stati Uniti eh sì ed è per questo che adesso approfondiremo il patrimonio degli americani non investirò mai più in titoli americani sono pericolosi non hanno fondamentali e sono fuori mercato basta guardare il debito pubblico vabbè ok quali sono i fondamentali cosa si intende per fondamentali tipicamente il patrimonio ma il patrimonio di chi delle aziende o dei privati che puoi tassare per andare ad avere quelle entrate che ti permetteranno di tenere sotto controllo il debito e quello che emerge è che gli americani sono incredibilmente ricchi e si sono incredibilmente arricchiti a spese del loro debito pubblico ma dal 2020 in poi la crescita del loro patrimonio è stato a livello medio di nazione importante il patrimonio delle famiglie è aumentato di 5 trilioni di dollari 5 mila miliardi di dollari solo nell'ultimo trimestre dell'anno ed è cresciuto di circa 40 trilioni di dollari dalla pandemia quindi le famiglie sono molto più patrimonializzate grazie hanno tasse bassissime lo stato però si è indebitato e loro hanno patrimonializzato un aumento proprio netto di ricchezza e infatti le famiglie americane hanno 4 volte più patrimonio che il debito pubblico americano e quindi giustamente come dice Robert Burghese le famiglie americane sono una massiccia risorsa che può permettere facilmente agli Stati Uniti al governo degli Stati Uniti di finanziare debito e deficit ma questo vuol dire aumentare le tasse lo si fa adesso che siamo in fase preelettorale ma probabilmente no lo dovrà fare il prossimo governo alla luce di questi dati viene da dire non ci sono alternative se vuoi approfondire i dati degli americani sul perché quanto si sono arricchiti a livello di famiglia media ci sono molte altre slide nel pdf che puoi scaricare gratuitamente che ti permettono di avere il quadro completo a questo si aggiunge che gli Stati Uniti hanno anche comunque 8.000 tonnellate di oro che potrebbe aiutare sostenere il debito pubblico qualora ci fossero difficoltà e questo è patrimonio dello Stato quindi speriamo che gli USA schiattino speriamo spariscono il più presto possibile speriamo che esplodano gli sua insomma difficile essere così catastrofisti dal momento che il patrimonio c'è negli Stati Uniti è nelle famiglie e nelle aziende e non lo è nelle finanze pubbliche che invece sono in grossa difficoltà cioè niente di diverso di quanto non abbiamo qui in Italia in cui abbiamo lo Stato indebitato è una ricchietta media per famiglia in erosione perché ovviamente se non c'è crescita economica è difficile avere crescita del patrimonio comunque a livello medio in Italia c'è ancora tanto patrimonio quindi grandi catastrofi all'orizzonte è difficile pensarle dal momento che appunto basta fare una patrimoniale o basta aumentare le tasse che le risorse per mettere una pezza al debito pubblico ci sono e no non mi sento in colpa se parte del debito pubblico americano serve a sponsorizzare questo canale grazie a tutti